Un minuto con Padre Pio per raccontare la sua storia da questi luoghi, dalla via Crucis del Messina, in questi giorni stiamo ripercorrendo un po' questi viali, chissà quanti di voi avranno avuto modo di essere qui a San Giovanni Rotondo e pregare, recitare e soprattutto celebrare questo Pio esercizio della via Crucis, ripercorrendo i passi di Padre Pio. 9 dicembre del 1941, ci aiuta l'epistolario, il numero 4, ci racconta quello che il 54enne Padre Pio da Pietrelcina scrisse e lo scrisse proprio al suo ministro generale, padre donato da Well, che fu superiore dei Cappuccini dal 1938 al 1946, durante gli 8 anni del suo generalato, visitò più volte San Giovanni Rotondo e anche quando il padre generale tornò in Belgio nel 1946 continuò ad interessarsi delle vicende di Padre Pio. Infatti il 9 dicembre del 1941 è proprio Padre Pio che scrive da questo convento al suo ministro generale, Gesù la conforti, la sostenga, la renda sempre più degna dei suoi divini amplessi, ricevo la sua gratitissima in ginocchio, scrive Padre Pio, ringrazio Dio e lei della serafica benedizione che nell'esuberanza della sua paterna bontà ha voluto inviarmi, sempre ho pregato Gesù per lei, per tutte le sue intenzioni, ma qui innanzi intensificherò le mie preghiere presso il Signore per la sua santificazione e per la prosperità del serafico ordine. Una preghiera, quella di Padre Pio, anche per i suoi confratelli, i suoi confratelli Cappuccini che vivevano in ogni parte del mondo, in particolare anche la nostra preghiera va ai tanti confratelli di Padre Pio che in questo periodo un po' triste per tutti noi stanno combattendo con un flaggello che è invisibile, ma che purtroppo è tremendo e sta seminando non solo paura, ma anche vittime. Allora insieme con questa preghiera che fa Padre Pio al suo ministro generale, a tutti i frati Cappuccini, a tanti religiosi sacerdoti che si impegnano a servizio degli altri, in modo particolare un pensiero va anche ai tanti confratelli di Padre Pio qui nel convento di San Giovanni Rotondo affinché possano ritornare a sorridere e poter riabbracciare i tanti pellegrini che giungono qui a San Giovanni Rotondo.